Siamo qui con il mister Nicola Ballerini alla conclusione della partita tra Belvedere e Castelnuovo al di Cecina. Prima a Teleamere Spente ci siamo messi ad analizzare la partita, ti dico partita dove il primo tempo avevate chiuso benissimo gli spazi al Belvedere lasciando pochissime occasioni. All'ultimo minuto questo rigore di Bartoletti su Tantone vi ha scombussolato un momento tutti i piani e al rientro la squadra è rimasta negli spogliatori e poi è venuto tutto il risultato finale di 7-0. Intanto buonasera, l'analisi è stata perfetta. Abbiamo fatto un primo tempo abbastanza giocato per quello che si poteva fare perché anche oggi siamo un po' rimaneggiati. Però siamo riusciti a stare in campo nonostante tutto a rischiare quei due o tre tiri, niente di pericoloso. E poi nel secondo tempo non so sinceramente cosa è successo, mi piglio la colpa io completamente perché evidentemente non sono riuscito a far credere ai ragazzi che era una partita che si poteva portare in fondo diversamente. Io prima di tutto faccio i complimenti a te, alla tua squadra per il primo tempo e anche alla società perché so che fare calcio a Castelnuovo non è semplice visto la posizione geografica. Oggi le tante assenze, Cannas, Grandoli, Ceccarini, Lucarelli che è il capocannoniere della squadra ti hanno portato a ridisegnare la formazione riposizionando giocatori in ruoli magari non abituali. Quindi tutto il massimo rispetto, però un paio di assenze sono per squalifica e anche squalifiche lunghe. Questo secondo me è una problematica negli spogliatori che va affrontata perché poi ti condizionano non solo questa partita ma te ne hanno condizionate alcune passate e saranno condizionanti anche per alcune future. Sì, quello l'abbiamo già affrontato con i ragazzi, con la società che è intervenuta subito giustamente a farsi sentire e poi alle 5, non sto qui, se no si sarebbe qui tutta la sera a commentare le espulsioni su un fallo 5 giornate, su un altro, ha mandato a quel paese l'arbitro ha preso 4 giornate. Mi sembra che sia stato anche un po' esagerato il giudice a livello di giornate. Ora abbiamo fatto ricorso, vediamo come se in settimana verrà discorso, però sì, specialmente come ha detto bene te prima, siamo già in un paese che geograficamente si dura fatica a portare ragazzi. Ci si mette con le squalifiche, poi ci mette le infortuni, tutte queste cose qui, arrivi la domenica poi sei costretto a mettere un difensore davanti, un attaccante a centro campo e cercare di fare il più possibile. E devo essere sincero, fino all'altra domenica questi ragazzi hanno avuto un comportamento anche in campo a livello di carattere, di verbi, hanno sempre lottato, sempre lottato. Infatti quello che ci sono rimasto male oggi più che altro è il secondo tempo, questo sequestro mollare nel secondo tempo che non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, ci può stare tutto, ci può stare a prendere, ci può stare a prendere cinque, sei, ci può stare tutto, però bisogna uscirci con la testa alta e noi oggi non siamo usciti con la testa alta dal campo. E questa me ne assumo tutta la mia responsabilità perché io sono quello che deve cercare di trasmettere ai ragazzi quel qualcosa in più quando sono in difficoltà che evidentemente questa settimana non ci sono riuscito. Io ribadisco, rinnovo i miei complimenti e i miei auguri a tutto l'ambiente Castelnuovo Val di Cecina, secondo me oggi è solo un incidente di percorso e so che volevi anche salutare una persona, quindi ti lascio l'ultimo spazio per un saluto finale. Saluto il carissimo Mastracca, Paolo che tutte le volte ci sentiamo, siamo stati cinque anni a sentirci tutte le settimane e lo saluto volentieri e saluto anche voi. Grazie, ancora in bocca al lupo.